Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi giornata di camminate, un po' cupa, un po' grigia, ma va bene ugualmente. Destinazione, Monte Misma. Vediamo il minuto se ci riusciamo. Ecco il mare, il verde, la cima, va bene, sembra che ci sia neve da sotto. Se vedete, posso cominciare a camminare. Non c'è la pioggia, non c'è essere più insistente. Devica. Devica anche bene. E adesso vi faccio cliccare. Mi sono trovato qua. Adesso si. E' un po' di parca. E' un po' di parca. E' un po' di parca. E' un po'. Sto a spargolare. Invece il fuoco che si riusciamo a farci. E' un po' di parca. Non c'è un po' di parca. E' un po' di parca. E' una po'. E' una po' di parca. Questa è troppo verde. Non si mette subito, non è così in piedra. Oggi ci siamo piuttati. E i gusti di prima parte. Oggi ci siamo piuttati. Ci siamo piuttati. Ci siamo piuttati. Ok. Si, dai. Inizio è sicuro. I'm piuttati. Ci siamo piuttati. Ci siamo piuttati. Niente! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.